Stamattina l'agenzia di stampa Reuters ha pubblicato un pezzo anche intervistando in loco una donna che denunciava la questione in cui si rendeva conto dell'ennesima legge restrittiva imposta dai talebani in Afghanistan nei confronti delle donne alle quali pare essere ora impedito l'accesso nei parchi divertimenti quelli con le giustrine per i bambini per intenderci e non si capisce bene perché o in che modalità se è per la mancanza di un accompagnatore maschio che deve accompagnare le donne fuori casa in ogni momento o se sia un gesto relativo proprio al tipo di luogo o ancora l'impossibilità di dividere categoricamente i sessi come avviene in altri tipi di strutture con gli uomini da una parte e le donne dall'altra ve lo dico perché dopo il video di ieri ho letto un po' di mail e di commenti come cerco di fare ogni giorno che sono tra i più disparati perché lo scontro di culture per così dire agita sempre un po' gli animi è un tema caldo soprattutto sentito da chi sia in Italia e guarda i miei video ma provenga da un background differente magari figlio di immigrati dal Nord Africa è una cosa molto comune o comunque legato in qualche modo a un paese musulmano ieri commentavamo infatti i mondiali in Qatar e la speranza che questi possano portare a una rivoluzione culturale in senso di apertura di società altrimenti chiuse, tradizionaliste e direi profondamente ingiuste seppure nel mio discorso apriva la possibilità che spesso dall'Occidente si osservino luoghi lontani ed esotici con un po' di senso di superiorità e non può che essere così perché è un sentimento tipicamente umano quello di dividersi in clan percepire un'appartenenza e costruirsi in qualche modo una narrazione di importanza personale è anche importante chiarire che certi principi non sono occidentali ma di giustizia globale e il fatto che siano diventati un simbolo dell'Occidente dell'Europa in particolare negli ultimi anni non li rende meno giusti solo perché sono occidentali l'Afghanistan è l'esempio perfetto per parlare di questo fenomeno perché a livello politico strategico di immagine questo paese è il simbolo del fallimento delle politiche estere statunitensi che si sono ritratte da una guerra terribile senza senso lasciando che un gruppo come quello dei talebani non particolarmente attrezzati addestrati e organizzati perlomeno rispetto all'esercito statunitense riprendesse totalmente il controllo del paese ricordiamo tutte le immagini degli statunitensi che scappano da Kabul e la cosa che però ci siamo dimenticati è quanti civili afghani cercavano di scappare con loro di arrampicarsi sugli aerei e di dare perlomeno loro i figli magari in fasce tanta era la paura di quello che i talebani avrebbero combinato nei mesi e negli anni a venire perché se a livello strategico l'Afghanistan è una sconfitta con gli Stati Uniti a livello sociale ad aver perso sono gli stessi afghani non di certo l'Occidente quando mi trovo a criticare certe scelte liberticide quindi e parlo in misura diversa sia dei diritti in Medio Oriente sia di politiche in Europa anche del governo italiano di nuovo misure differenti si è chiaro che non lo faccio né per senso di superiorità né per neoimperialismo come è stato scritto lo faccio seguendo la sincera convinzione che sia il nostro dovere rendere la breve vita di noi tutti la migliore possibile e che questo si ottenga principalmente concedendo più libertà possibili non togliendole e che queste libertà vengano tolte per scelte di potere come in Russia o per ragioni sociali e ideologiche come il dibattito sull'aborto da noi o come il rispetto delle tradizioni della cultura in altri luoghi non cambia sono scelte che dal mio punto di vista peggiorano la vita di tutti aggravano condizioni già misere e trascinano tutto verso il basso a prescindere dal perché si decida di impedire a una donna di decidere del proprio corpo o di uscire di casa da sola o di portare il suo figlio al parco quindi iniziamo sto Breaking Italy dobbiamo parlare di nuovo di luoghi estremamente illiberali nei quali esprimere giudizi come quello che ho appena espresso sul nostro governo è diversamente da come da noi un rischio invece che un privilegio e se infatti quando parliamo della nazione più restrittiva in tal senso il primo pensiero va alla Cina che è da anni il leader per quanto riguarda il monitoraggio soprattutto online dei cittadini anche in Russia si delinea ormai una situazione simile e mi sembra quindi il caso di introdurre uno dei nostri sponsor principali NordVPN una cosa che si sa delle VPN che sono dei servizi che anonimizzano il vostro traffico online è che seppur facili da usare in molti casi quello di Nord è lateralmente schiacciare un tasto non sono di largo utilizzo per cui governi come quello cinese specie quando si tratta di occidentali tendono a chiudere un occhio qualche volta in che senso? nel senso che quando usate una VPN il vostro provider non può leggere i vostri dati ma capisce che state usando una VPN e nel caso è in grado di bloccare la vostra navigazione cosa che ad esempio succede in Cina durante i periodi più delicati ad esempio in occasione del congresso del partito comunista cinese che si è recentemente concluso quindi spengono tutto pure le VPN ma una cosa che non sapete è che Nord mi chiede di farvi sapere perché ne sono evidentemente orgogliosi è che loro hanno un servizio che si chiama server offuscati che sostanzialmente non solo protegge il vostro traffico ma impedisce al provider di sapere che state usando una VPN evitando quindi che la vostra navigazione sia ritenuta sospetta attenzionata magari anche solo rallentata è un livello di privacy ulteriore se vogliamo ed è incluso nel prezzo di abbonamento che durante il Black Friday è particolarmente scontato se passate tramite il link che trovate in descrizione e vi danno anche un po' di roba in regalo 4 mesi gratis servizio anti-malware e blocco dei trackers incluso tutto in un unico pacchetto perché il Black Friday è una grande tradizione è una delle cose buone che abbiamo importato dagli Stati Uniti il Black Friday no però seriamente dai parliamo dobbiamo parlare di cose brutte oggi vabbè facciamolo perché avete presente tutte quelle volte in cui abbiamo accennato qualcosa sulla controoffensiva ucraina a Kherson rimandando comunque la notizia quando avremmo avuto più dettagli bene quel giorno è arrivato perché a quanto pare l'esercito russo si ritirerà dalla città riposizionando i suoi soldati a est rispetto al Fimednipro qui in quella che sembra a tutti gli effetti una sconfitta per l'esercito di Mosca fate conto che Kherson era stata la prima grande città conquistata dai soldati russi nei giorni immediatamente successivi all'invasione il che arrende abbastanza l'idea di come la ritirata possa essere vissuta da alcuni proprio come una sconfitta perché è quasi un anno ormai che quella città era sotto il controllo dei russi provate a ricordare cosa stavate facendo otto mesi fa probabilmente così su due piedi non lo sapete perché è passato un sacco di tempo la posizione di Kherson non ha solo un valore simbolico comunque ma è anche estremamente strategica ad esempio detiene un porto vitale per il traffico marittimo delle acque del Mar Nero era l'unica città conquistata a ovest del Dnipro il fiume che taglia metà l'Ucraina e poi un collegamento importante sia con la Crimea penisola ucraina ma occupata dai russi nel 2014 sia in generale con tutta l'area più sud occidentale del paese quella che va verso Odessa per capirci non per niente la regione di Kherson rientra tra i quattro blast che sono stati annessi legalmente alla Russia a fine settembre insieme alle due repubbliche nel Donbass e a Zappoliscia vadasse quindi che tutto questo hype questa attesa attorno alle sorti di Kherson oltre che per far sapere agli altri che si è molto edotti sulle questioni belliche ha un suo senso perché ci si chiedeva se l'avanzata Ucraina che sta accadendo un po' ovunque avrebbe avuto la meglio anche qui cosa che poi effettivamente è successa c'è un dettaglio inaspettato sulla notizia però che riguarda piuttosto il come questa è stata data perché ieri il ministro della difesa Shoigu ha annunciato sulla tv nazionale il ritiro delle forze di Mosca quindi la cosa si è saputa tramite i canali ufficiali e questo dopo che il generale Surovikin ha spiegato che seppur molto difficile questa decisione avrebbe salvato tantissime vite Surovikin ha fatto poi il suo discorso davanti a una mappa dell'Ucraina che non è ben chiaro perché ma è stata sfocata in post-produzione non è una cosa che stiamo facendo noi l'hanno mandato così citando come principali ragioni della ritirata i bombardamenti ucraini la difficoltà a mantenere i punti di passaggio e il potenziale allagamento dell'area che renderebbero complesso per la logistica russa portare ai rifornimenti da qui la zona ancora sotto il controllo russo oltre al fiume a qui la città proprio per la fragilità di queste connessioni diciamo a tutto questo ha fatto seguito un discorso notturno del presidente Zelensky che ha accolto la notizia con una certa cautela invitando tutti a trattenere le proprie emozioni perché c'è da dire che la ritirata è stata accolta con un certo entusiasmo anche qui sui social e le forze militari di Kiev hanno però già avvisato della possibilità che Mosca finga una ritirata nella speranza di trascinare l'avversario in un qualche tipo di trappola facendogli prima abbassare la guardia diciamo anche perché per quanto l'annuncio di Shohei Russia di ieri i militari russi avevano già dato segno di volersi ritirare cosa che fa quindi presagire un ritiro ordinato non è una fuga a cambiare l'aria ecco tanto più che non sarebbe la prima volta che Mosca dice una cosa e poi ne fa una completamente diversa ad esempio il portavoce di Zelensky Podoliak ha pubblicato ieri un tweet spiegando questo approccio di diffidenza affermando che non ci siano ad oggi sicurezze che le truppe russe vogliono davvero andarsene senza combattere dato che una parte di loro risulta essere ancora dentro la città e Podoliak allunga poi al fatto che l'annuncio dei generali russi fosse in qualche modo preparato che sinceramente è una cosa che mi sembra evidente perché quando mai vi avete visto un incontro di generali militari mandato in tv durante un conflitto è una cosa boh e quindi Podoliak parla della necessità di attendere che l'intelligence dia delle informazioni prima di poter cantare i vittori e decidere il da farsi sempre ieri comunque arriva un'altra notizia da Kherson perché pare infatti che un importante funzionario messo da Mosca il comando della città abbia perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava nell'autostrada che va da Kherson ad Armiansk in Crimea morto in circostanze non chiarissime mentre cercava si è detto di evitare un camion che avrebbe fatto una manovra pericolosa una cosa del genere il suo nome era Kirill Stremuzov era ucraino e da subito si era schierato dalla parte dell'occupazione russa diventando poi una delle cariche prominenti sponsorizzando peraltro anche il referendum e la conseguente annessione della regione alla Russia la cosa interessante è che su Telegram lo riporta la CNN l'uomo si rivolgeva spesso alle forze armate ucraine come nazisti e fascisti quindi sposando in pieno la narrazione di Mosca ma era anche molto critico verso i passi falsi fatti dall'esercito quindi quando definiva alcuni generali russi come incompetenti cosa che quindi amplia di tanto la lista di persone che potevano avere un interesse nel fargli male ecco ipotizzando che non si tratti di un incidente ma sulla morte pagliano infatti esserci un po' di ambiguità ad esempio un ufficiale ucraino ha espresso un certo scetticismo nel report della morte di Stremusov dicendo che fosse impossibile stabilire se si trattasse o meno di un incidente e nel frattempo da parte russa c'è un certo sospetto perché il generale non è l'unico leader ucraino appoggiato dai russi ad aver perso la vita negli ultimi anni ad esempio Aleksandr Zakharchenko che era primo ministro della repubblica di Donetsk fu ucciso nel 2018 in un bombardamento in un bar e anche altri generali separatisti sono poi morti negli anni prima dell'invasione e ovviamente in quelle occasioni i leader russi e separatisti punta nel dito contro Kiev che è sinceramente la prima cosa che pure a me viene da fare mentre gli ucraini sostengono che possa essere stato lo stesso cremlino intenzionato a rinnovare le figure di riferimento che dici può essere però vabbè peraltro tornando a Stremusov c'è anche uno screen che gira su Twitter dei metadati del video diffuso dal governato del filo russo di Kherson in cui lui stesso conferma la moto del funzionario e secondo questi screen i metadati dimostrerebbero che in realtà sarebbe stato girato due ore prima rispetto alle prime notizie dell'incidente e per quanto si tratti di un dettaglio interessante è un po' complicato capire se sia veritiero o meno però insomma volevo aggiungere questa ipotesi alla trama che però volendo possiamo dimenticare il fatto importante è che pur con l'inverno nelle porte fate conto che oggi a Kherson la temperatura massima era di 11 gradi la minima di 2 l'esercito ucraino continua ad avanzare e rinquistare territori rendendo quindi completamente invalide tutte le teorie che lo volevano spacciato già mesi e mesi fa in chiusura dobbiamo parlare di quello che sembra essere un nuovo esempio di violenza ingiustificata all'interno delle carceri perché ieri emerso come il giudice delle indagini preliminari di Bari abbia messo un'ordinanza di misura cautelare che in questo caso significa sostanzialmente arresti domiciliari per tre guardie penitenziarie del carcere di Bari con l'accusa di tortura nei confronti di un detenuto premetto subito che parliamo ovviamente di un'ordinanza preliminare a cui potrebbe o meno far seguito un procedimento giudiziario e poi un'eventuale sentenza per cui fino a quel momento stiamo ovviamente parlando di reati presunti molto importante ma premesso questo i fatti per come sono stati esposti nell'ordinanza sembrano in realtà essere molto chiari il 27 aprile scorso un detenuto che secondo alcune ricostruzioni era anche affetto da una patologia psichiatrica ha dato fuoco al materasso della sua cella e in seguito al fatto sarebbe poi stato trasferito al reparto medico immagino per complicanze dovute a rogo ma è un'ipotesi che sto facendo io ed è proprio durante il trasferimento che alcuni agenti lo avrebbero bloccato a terra mentre tre di loro lo ricoprivano di calci e pugni per quattro minuti che immagino di non lo vado a specificare sono un'eternità per questa cosa qui e il tutto mentre alla scena assistevano senza intervenire altri colleghi ora per i tre agenti che si sono resi responsabili dell'effettivo pestaggio il GIP ha disposto appunto gli arresti domiciliari con l'accusa di tortura mentre per i complici sia per chi ha bloccato l'uomo per chi ha assistito e basta è stata invece disposta alla sospensione dal servizio di qualche mese con l'accusa in un caso di concorso in tortura e nell'altro di rifiuto dati d'ufficio che è il reato che rappresenta il mancato intervento di fronte a quello che sarebbe dovuto essere il loro compito diciamo ovvero fermare il pestaggio risultano peraltro indagati anche il medico di guardia dell'infermeria e tre infermieri tutti per il fatto di non aver riportato le lesioni subite dall'uomo omettendo di denunciare quello che evidentemente era palese si trattasse di un pestaggio che poi è una dinamica abbastanza comune non si denuncia spesso non tanto perché non si vuole ma per paura di ritorsioni da parte delle stesse forze dell'ordine ora l'unico motivo per cui abbiamo contezza di questa situazione è perché a effettuare la denuncia è stato lo stesso comando della polizia penitenziaria di Bari che ha poi collaborato direttamente con la polizia giudiziaria dei carabinieri che ha effettuato le indagini ed è infatti difficile immaginare che in caso contrario saremmo venuti a conoscenza di quello che è successo o quantomeno dell'esistenza di un'indagine in merito che prefigura un reato di tortura e su questo dobbiamo spendere due parole fate conto che l'istituzione stessa del reato di tortura è molto recente parliamo del 2017 ma la pena 5 anni fa anche se il testo era in discussione da prima dal 2013 e io me lo ricordo benissimo perché l'istituzione di questo reato causò tantissime polemiche con un testo che venne giudicato un gigantesco compromesso che scontentava tutti quindi sia il PD che l'aveva firmato che le altre forze di sinistra e di centro che lo ritenevano debole poco incisivo sia ovviamente alle destre le frate d'italia lega e fratelli d'italia che non lo votarono con l'accusa di essere una legge che avrebbe reso difficile alle forze dell'ordine operare in libertà la tole premier meloni fu molto vocale in merito che è un po' una vergogna totale la ragione della vergogna è presto detta per chi avesse già il prodotto alle mani se ricordiamo il motivo per cui l'italia si mosse per accelerare l'approvazione della legge visto che tutto avvenne a causa di una condanna all'italia da parte della corte europea dei diritti dell'uomo per il massacro appunto qualificato come tortura ma che non fu punibile in tal maniera proprio perché l'italia era priva di questa fattispecie tutti questi eventi ha dimostrazione che il nostro paese si porta avanti da molti anni una certa difficoltà nel tracciare una linea su cosa consista o meno come legittima misura di intervento e uso apposta questa formulazione perché tra i compromessi che permissero alla legge di esistere c'era proprio l'esclusione dal reato di tortura di quelle sofferenze che risultavano dall'applicazione di misure di violenza legittime e inevitabili situazione che è spesso il caso in cui si trovano le forze dell'ordine sul quale operato quindi bisogna per legge stabilire quanto le loro violenze siano non legittime e quanto invece siano legittime al netto infatti della denuncia a carico degli agenti penitenziari di Bari è molto difficile dobbiamo dirla questa cosa che si arrivi a configurare il reato di tortura non tanto perché in questo caso si possa dimostrare che la violenza fosse legittima è difficile ma proprio per il modo con cui la legge è stata formulata il reato di tortura infatti si configura solo a fronte di un comportamento reiterato mediante più condotte e non è quindi inquadrabile come tortura un singolo pestaggio cosa che era poi una delle critiche alla legge la stessa Ilaria Cucchi sorella di Stefano Cucchi oggi senatrice l'aveva definita inutile e inapplicabile proprio perché era necessario dimostrare la ripetizione di un reato infatti è plausibile che il tempo le darà ragione e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato vi ricordo NordiPN il nostro sponsor trovate il link in descrizione fateci un salto fateci un pensierino tanto c'è il 30 giorni per avere il rimborso nel caso non vi piaccia ma vi piacerà perché funziona molto bene per il resto era tutto grazie per essere arrivati fino a qui fate i bravi e fate le brave e ci vediamo domani in live grazie a tutti grazie a tutti